Cioca! Sputti sangue dalla bocca! La mia sangue! Ottimo! Mi ringrazio! Sei tu l'ore! Sei tu l'ore! Sei tu l'ore! Bilello! Ciao! Andiamo all'ombra! Andiamo ad andare a Roma? A Londra? All'ombra poi a Roma! Di più, di più, secondo me il parco se non possiamo farci sentire... Ma quanti siete? Sentiamo quasi la portavoce. Quanti siete? Allora c'è il gruppo... Stiamo di 150. Quanti siete? Quanti siete? Quanti siete? Belle! Ah, cos'è? Bellissime! Ragazze! Fantastiche! Sì! Ma cos'è? Che amico! Adesso siamo emozionati! Adesso siamo emozionati! Eh, nulla! Sì! Ah! 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 Un po' che non va dal dentista! Un po' che non va dal dentista! Un po' che non va più dal dentista! Fai vedere bene la manina! Sì! Sì! Abbiamo bisogno di una mano perché non riesco a... Sì! Non mi sta sulla... La parruccia! Sì! Ho bisogno di una mano! Di là c'è... Se lei pensa che su papà dietro gli stia aggiustando la pelle... Sì, no, la so che sta facendo lei foto signorante! Di là c'è di te muovo, ha fatto bene, davvero bene! Sì! Sì! Sì!